19 novembre 2017. Muore a 80 anni Charles Manson, famigerato pluriomicida statunitense. Inizia la sua carriera criminale in giovane età, rubando, aggredendo, stuprando e scappando dai riformatori. Condannato per sfruttamento della prostituzione, viene rilasciato nel 1967 e inizia una nuova missione criminosa. Vicino a San Francisco fonda una comune, poi ribattezzata Famiglia Manson, dove profetizza la cultura satanica e l'olocausto razziale. I membri della comune, ispirati dal suo carisma, compiono diversi massacri, il primo dei quali nella notte del 9 agosto 1969, quando irrompono nella villa dei coniugi polanschi. Il giorno dopo uccidono a coltellate i coniugi La Bianca nella loro casa. Gli omicidi proseguono per diversi anni, finché Manson viene arrestato, incriminato e processato nel giugno del 1970. Il 29 marzo 1971 Manson e i suoi seguaci vengono condannati alla pena di morte, poi commutata in carcere a vita, quando nel 1972 lo stato della California abolisce la pena capitale.